Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato, Iskai è uscita su Valorant, amici di Sport Itapation e quest'oggi siamo qui appunto per cercare di capire quali sono i pro e i contro di questo nuovo agente che cosa è in grado di fare, come possiamo utilizzarla al meglio, insomma una guida per principianti per iniziare sin dal momento 1 a utilizzare questo nuovo agente al meglio delle sue abilità Benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa nuova guida e vi invito a restare con noi su Iskai e Sport Itapation per ogni giorno nuovi incredibili video E iniziamo con la prima abilità, davvero molto importante e che permetterà alla nostra Sky di poter aggirare e andare tranquilla negli angoli più bui in assoluto di Valorant in tutta sicurezza si chiama luce guida e osservandola più da vicino noteremo che ne avremo ben 3 a disposizione in un round ovviamente se acquistiamo tutti 3 gli slot a nostra disposizione e come vedete nelle nostre mani si forma una specie di falco cristallizzato e questo falco una volta sparato in faccia al nemico genera cecità, lo abbaglia per quel frangente di secondo quel frangente di secondo più che sufficiente per poter andare dall'altra parte e poterlo colpire esattamente come succede con l'abilità abbagliante di Phoenix ed esattamente come questa abilità noi possiamo in qualche modo guidare il nostro falco anche dietro gli angoli a 90 gradi basta semplicemente tenere premuto il pulsante e fargli fare la curva al nostro falco ma è tutto oro quel che luccica? assolutissimamente no ragazzi perché l'abilità può essere in qualche modo interrotta dal nostro nemico che ovviamente sentendola può tranquillamente sparargli un paio di colpi e voilà il nostro falco cristallizzato si rompe nell'aria senza attivare il suo effetto una cosa molto importante ragazzi da sapere è che l'effetto di abbagliamento dura all'incirca un secondo e mezzo due per cui non avete così tanto tempo e altra cosa molto importante è che potete in qualsiasi momento far esplodere il vostro falco cristallizzato quando meglio credete questo vi permetterà di farlo esplodere in aree come potremmo definire precise prestabilite abbiamo già visto programmer utilizzare al meglio questa abilità proprio storgendo il volo dell'uccello lanciandolo in aria e proprio spingendolo quasi a 360 gradi se così possiamo definirlo per cui questa abilità badate bene e sì molto simile a quelle che abbiamo già visto con phoenix e che vi ho appena elencato ma potrebbe essere utilizzata in maniera molto migliore ok se lanciata in aria e fatta esplodere in aria in una grossa zona e che vi permette non solo di agilare un angolo ma anche più angoli e naturalmente può esplodere al vostro comando insomma cosa volete di più è l'abilità perfetta per distrarre seconda abilità che diciamo ragazzi appena scoprirete apri pista voi direte perfetto è l'abilità perfetta per non utilizzare il mio corpo in prima linea ok è per utilizzare questo cane per far danni e sturdire il nemico quindi nella vostra testa questa abilità che essenzialmente vi ho già descritto è perfetta in tutto state bene attenti apri pista è sicuramente un'ottima abilità ma ne avrete solamente una a disposizione inoltre apri pista dura all'incirca in partita 5 secondi problema numero 3 apri pista ragazzi se colpito dall'avversario ovviamente può essere distrutto problema numero 4 se utilizzate apri pista beh voi ne prenderete il controllo ma il vostro corpo ragazzi non diventerà immortale per cui se voi puntate a un nemico siete in campo aperto e magari vi siete diciamo lasciati esposti un po' troppo beh finirete per ovviamente utilizzare il vostro apri pista e poi morire disperatamente per terra per cui primo consiglio per utilizzare apri pista ragazzi e sì perfetto per far danno e sì perfetto per stordire il nemico ma utilizzatelo anche per scautare in fin dei conti la grande agilità la grande durata di questa abilità è perfetta per capire che cosa sta facendo il vostro avversario consiglio numero 2 coprite il vostro corpo da magari attacchi di agenti che sono vicino a voi e voi non avete visto consiglio numero 3 non tergiversate troppo la resistenza di apri pista non è così ampia per cui basterebbero 2-3 pistolettate per poi ucciderlo ok e dovete cercare di utilizzarlo al meglio su un soggetto e non su più soggetti contemporaneamente perché non avrà l'effetto di luce guida che può stordire più obiettivi no no apri pista funziona solamente su un agente e inoltre il dulcis in fundo utilizzatelo in tandem con magari qualcun altro della vostra squadra e non utilizzatelo voi per attaccare e stordire il nemico e poi entrare voi in azione no no utilizzatelo per attaccare e stordire il nemico e subito far attaccare il nemico da un vostro agente della vostra squadra solo così otterrete il meglio da questa abilità questo è poco ma sicuro ed ora parliamo di ricrescita e finalmente ragazzi abbiamo un healing fatto bene e decente finalmente un agente che serve davvero a supportare la squadra bene e ragazzi ricrescita essenzialmente questo una specie di zona in cui noi possiamo curare i nostri alleati allora ragazzi anche qui se descritta così l'abilità sembra incredibile in realtà di malus ce ne sono tantissimi e cioè voi potete curare essenzialmente ad aria non potete selezionare un determinato agente che si curi solamente lui no se i due agenti che stanno mare sono tutte e due nell'area indistintamente l'abilità di healing curerà entrambi e questo essenzialmente ragazzi io ho male perché? perché la barra ragazzi andrà a consumarsi in maniera molto più vistosa problema numero due l'area che pian piano parte ok non curerà la vostra agente e qui ragazzi essenzialmente vi rende in qualche modo obbligati a curare solamente gli agenti della vostra squadra certo è un bene per poterli supportare e un male che essenzialmente voi se avete perso vita non la recupererete facilmente altro problema questa abilità ragazzi non va a cariche ma va sia barra ok se voi consumate tutta la barra per curare un agente ok essenzialmente ridagli tutta la vita beh la barra non si ricaricherà non avrete altre cariche l'avrete utilizzata per tutta la partita il che essenzialmente come avrete ben capito non vi permette di poter utilizzare questa abilità per appunto curare più e più volte gli agenti del vostro team essenzialmente una volta finita la barra il primo che arriva meglio alloggia no? altro punto abbastanza importante che dovete tenere in mente anche se utilizzate questa abilità di healing sappiate che le vostre mani sono occupate e sappiate quindi che siete dei bersagli estremamente facili da colpire certo potete interromperla riprendere in mano l'arma e poi riprendere l'abilità ma state ben attenti copritevi bene le spalle perché se siete un po' troppo esposti quindi cercate di fare entrare un agente della vostro team ok vi esponete un po' di più e beh ragazzi rischiate di lasciarci le penne abbastanza velocemente quindi ho ciò dove vi mettete ultima ma non ultima l'abilità speciale e cioè cercatori e ragazzi come state vedendo in questo preciso momento si equipaggia un cercatore lo si spara e all'improvviso ecco che ne vengono fuori ben tre e questi tre cercatori cosa fanno? ma ovviamente cercano la preda e poi lo annebbiano e qui poi voi fate le vostre magie utilizzate la vostra mira utilizzate le vostre strategie e lo ucciderete ma andiamo a scoprirla un po' più nel dettaglio in realtà però vi devo dire che la descrizione di cercatori come l'ho detta prima non è esattamente giusta ok? nel dettaglio cercatori può essere in qualche modo gestita da voi in che modo potete creare un cercatore oppure inviarne ben tre contemporaneamente ed è qui ragazzi che iniziano le prime differenze non ci sono differenze in termini di lunghezza ok? ma c'è una differenza in termini di resistenza del cercatore un cercatore è più resistente ai colpi che gli vengono inferti rispetto a questi tre mini cercatori che poi possono venire sparati c'è una possibilità di utilizzare che ne so due cercatori? no ragazzi o uno o tre spetta a voi decidere comunque sia questa abilità per come è stata creata non è stata tanto fatta per annebbiare ok? offuscare la visione nemica no assolutissimamente no è stata fatta per altre motivazioni e vi consiglio di tenerle bene a mente punto numero uno serve sì per distrarre e ridurre la visione nemica ma non dovrebbe venire utilizzata ragazzi in campi aperti ma dovrebbe venire utilizzata primo in campi chiusi perché? perché il cercatore ragazzi si muove sulla mappa e non va a sbattere sulle pareti questo vuol dire che riesce a targettare cercare il suo bersaglio e poi ovviamente colpire altro punto fondamentale utilizzate cercatori ragazzi come sigugio potete definirlo come una specie di cane che vi indica la via degli agenti nemici state ben attenti ovviamente a non andare troppo oltre appunto il vostro cercatore ma con la dovuta accortezza beh voi potete seguirlo e voilà riuscirete a trovare l'agente nemico perché appunto il nostro cercatore l'ha seguito e l'ha trovato altro consiglio vi suggerisco di utilizzare questa abilità essenzialmente in tandem con le altre abilità a vostra disposizione oppure come vi ho appena suggerito di appunto attaccare seguendo questi cercatori ma se utilizzate prima questa abilità e poi ragazzi andate con il vostro segugio stordite e poi attaccate allora otterrete sempre al meglio del meglio tutto il 100% di questa ultimate altra cosa importante ragazzi cercatori in realtà ogni cercatore va su un agente nemico differente non è che un cercatore colpisce quello più vicino a lui no ogni cercatore ha il suo target ogni cercatore andrà a cercarsi un obiettivo diverso certo se gli agenti nemici ci sono di meno è chiaro che alcuni cercatori andranno in qualche modo ad accorparsi ok andranno nella stessa direzione ma essenzialmente ogni cercatore va per i cavoli propri per cui non pensate di poter andare ok e colpire tutti gli obiettivi colpiti da cercatore concentreratevi su uno ecco forse è molto meglio utilizzarla così questa abilità essenzialmente il video guida sarebbe finito qui ma noi non vogliamo lasciarvi così e quest'oggi vi daremo anche dei consigli su come utilizzarla al meglio allora consiglio numero uno sky come avete visto ha a disposizione una buona pletora di abilità ma queste abilità non sono state create per fare diciamo del male quanto per supportare di più gli agenti del vostro team state ben attenti con le abilità come ad esempio ricrescita che avete capito essere estremamente importante essere uno dei pochi agenti davvero dedicato all'ealing ma dovete anche stare attenti che voi non potete curarvi con questa abilità ma dovete supportare i vostri agenti supportate gli agenti della vostra squadra e soprattutto utilizzate le abilità come apripista e come luce guida ragazzi per non sfondare voi ma bensì far sfondare ai vostri amici con più facilità le linee nemiche ed essenzialmente ragazzi questo è il secondo tips terzo tips vi consiglio di utilizzare delle armi a lunga media distanza i mitragliatori vanno sempre bene ma se utilizzate il cecchino con questo agente è ancora meglio evitate gli scontri ravvicinate evitate di utilizzare troppo le vostre abilità come ad esempio luce guida senza davvero averne un utilizzo senza davvero doverle utilizzare in quel preciso momento state ben attenti al quantitativo di vita che date con ricrescita perché come vi ho già detto se all'interno di ricrescita ci sono più agenti feriti li curerete tutte e due e quindi sdrumerete la barra ok di ricrescita molto velocemente e utilizzate i cercatori per appunto utilizzarli come si gugi e cercare gli agenti nemici utilizzatela soprattutto quando siete in estremo vantaggio e quando vicino a voi ragazzi c'è anche qualcun altro qualche altro agente magari molto veloce e che magari può attaccare in maniera più veloce rispetto alla nostra sky per tutto il resto è un personaggio che verrà davvero molto usato andremo a studiare ragazzi pian piano quando si evolverà come gli sviluppatori vogliono supportarla che cosa verrà nerfato che cosa verrà supportato e soprattutto come i pro player vorranno utilizzarla per tutto il resto ragazzi spero che il video vi sia piaciuto spero che la guida vi sia stata utile e noi ci vediamo in un prossimo mega video ciao ciao